Bocconcini di nasello con panatura allo yogurt. Facili, veloci, leggeri e davvero sfiziosi. Per prima cosa taglia a cubetti i trancetti di nasello preventivamente scongelati. Rotola i bocconcini di pesce nello yogurt greco. Metti della panatura dorata in un piatto e aggiungi un po' di aglio in polvere. Rotola i bocconcini di nasello nella panatura. Trasferisci i cubetti di pesce panati nel cassetto della friggitrice d'aria oppure in una placca da forno. Scruzza un po' d'olio sulla panatura. Cuoci a 180-200 gradi per circa 10-12 minuti. Sforna i bocconcini di nasello panati e aggiungi il sale. Buon appetito!